Proseguono i controlli anti-assembramenti da parte delle forze dell'ordine ed in particolare dei carabinieri del comando provinciale di Salerno. Infatti dopo il concerto con Maxi e assembramento di una discodeca del litorale di Ponte Cagnano, giunto alla ribalta nazionale con un post di Selvalgia Lucarelli, i militari salernitani sono intervenuti su un evento tenuto da un noto esercizio del centro del capoluogo dove intorno alla mezzanotte si erano radunati oltre 400 ragazzi in età anche molto giovane. Insomma, una sorta di raduno non autorizzato. Grazie al tempestivo intervento dei carabinieri la situazione è stata normalizzata nel giro di una mezz'ora. Il blitz ha permesso di bloccare tutto ed è stato identificato il titolare del locale che verrà sanzionato ai sensi della normativa anti-covid-19. Tutta l'attività verrà quindi portata all'attenzione della Prefettura per le valutazioni del caso in ordine alla chiusura del locale sito nel centro della città di Salerno. Intanto, secondo il Consedio bollettino delle unità di crisi, sono 292 nuovi contagiati in Regione Campania. Il dato emerge dall'analisi di 9.192 tamponi molecolari con un tasso di positività del 3,18%.